ciao bellezze, allora io non so perché mi vedete gialla ma proprio gialla mi si vede ok adesso si, un pochino meglio allora ciao bellezze, eccomi tornata con un nuovo video alcuni pacchetti li ho già aperti perché stavo registrando il video ma purtroppo la fotocamera si è spenta e pensavo di riuscire a farlo in tempo quindi parlavo anche più velocemente del solito e quant'altro quindi non voglio ripetermine del tutto ma mi mostro con calma appunto cosa ho acquistato innanzitutto questo paio gli occhiali, sono fissa gli occhiali, si abbastanza, ne ho parecchi però c'erano modelli vecchissimi, questi qua mi mancavano la forma non è delle migliori perché non mi sta per niente bene quindi nada, lo usero nelle foto e quant'altro ma chissene poi altra cosa che ho comprato è questo qui l'ho acquistato per mettere magari appunto le cose piccoline che ho in borsa ma è scuscito loser, porca miseria è scuscito, vabbè pazienza appunto si dà e via molto molto carino e su questo color tiffani appunto lo pensavo per gli auricolari e quant'altro anche se comunque ce n'è uno per gli auricolari però stava molto molto bene in combo vedete peccato per gli occhiali che non mi stanno bene poi ho preso questa qui che è un piattino plastica pura plastica, fatta molto molto bene l'ho pensato per le salsine visto che comunque sia le buccio sempre nel piatto e poi è un macello praticamente quindi mi piace tantissimo e qua sullo stesso tema ho preso anche questo piattino qui che è sul rosa rispetto a questo verde è tagliato malissimo praticamente però diciamo che con un taglierino si può fare tranquillamente e l'ho pagato se no ma un euro non ricordo ragazzi i prezzi, mi dispiace tantissimo ma non ricordo poi ho preso questi qua elastici, coloratissimi fa caldo quindi trecce, code alte e quant'altro ma specialmente per la mia bimba volevo provare qualcosina però molto molto semplice questi qui ho pensato che andavano bene quindi li proviamo poi altra cosa questo pantalone è un pantaloncino di quelli da molto sgambati alti, bellissimi già ne ho preso uno che era bordeaux e l'ho ripreso blu mi piace tantissimo poi altro acquistino e questo qui si è capito vero che ho cambiato portafoglio bene sì perché la filofo mi ha lasciato mi ha abbandonato poi ve la far vedere allora eccetto per la scritta che è già leggermente sbiadita il colore non è per niente niente male la cernina è bella resistente e abbiamo appunto al centro una tasca per gli spicci e un paio per le carte e giusto per quelle uscite serali sapete guardate le fighettine tutto quanto io ho questo qua a posto di avere un mattone così grande quindi mi ci devo anche abituare è molto molto carino mi piace anche il colore poi ultimi due pare strano ho preso orecchini orecchini senza tosta ho preso questo paio di orecchini qui ne ne mostro solo uno sì ok questo qua molto carino secondo me riusci a fine questo video tra persone che interrompono e batterie che si scarica penso di no comunque molto ricchi nei nostrati ultimo pacchetto sono questi qui e sono penso la cosa più bella di tutti gli ordini tutti quanti incentrati su questo paio di occhiali ma me ne fanno ragione allora me ne mostro solo uno me ne mostro me ne mostro solo uno l'orecchino è questo e voi direte che è sta scusa sta cosa bruttissima benissimo dentro al lobo dietro al lobo si ingancia guada l'orecchino è quello qua è una cosa secondo me strepitosa fantastica mi piace da matti mi piace da impazzire è una cosa fantastica e Nisba questi erano i miei piccoli i miei piccoli mi arrivi da aliexpress che devo dire è molto molto migliorato il servizio un mesetto è arrivata roba tranquillamente quindi ottimo direi e nulla io mando un grosso bacio mi dispiace perché i siti si iscrive non so nemmeno il perché ma me ne fanno ragione per gli altri che restano iscritti si iscrivono un grosso bacio e mi raccomando seguitemi su instagram e se avete qualche consiglio se avete provato qualche cosa se avete qualche link da consigliarmi sui acquisti e quant'altro mi raccomando lasciate un commentino qui sotto un bacio a tutti e ciao ciao nemm